Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati su Daylight, secondo episodio, dove ho messo in pausa la fine del primo perché non abbiamo raggiunto un checkpoint, un punto di salvataggio, quindi lo sto girando dopo aver fatto un quarto d'ora di pausa dove ho girato per il giardino, ho fatto aerobica, ho respirato, ho accarezzato il cane per riprendermi dagli spaventi di prima. E... che dite? Reimpostiamo subito il timer e continuiamo con un'altra puntata, che ne dite? Andiamo. Stavamo cercando di capire dove andare. Eh no, devo scendere. Ok. Oh, tranquilli. Ho sempre paura quando mi giro in sti posti. Mi qua si è già passati. Però probabilmente mi sono perso qualcosa. Mi che dite? Riaccendiamo la... Qua la luce verde per vedere se c'è qualcosa da... C'è ho capito... Doh... Qua, ma c'è qualcosa. Viaggio di New Cleveland risale alla metà del Seicento. I primi abitanti furono attrati dalle coste pescose e dal facile accesso alle rotte di scambio. Non me ne può fregare di meno. Cioè, ma davvero, cioè... In questo momento tutto ciò che voglio è... È sopravvivere. Che qua sotto non abbiamo dimenticato niente. Voglio ritornare su da questa parte. Mi ha capito che lì si attiva un urlo ogni volta che passo. Va bene. Usate sempre per il raffreddore. Sto facendo il possibile per sopravvivere sia nella realtà che... Che su sto gioco. Che qui non c'è nulla. Doviamo, credo, sbloccare... No, non c'è... Non c'è nessuno. Devi piantarla. Dobbiamo passare di qua. Il problema... È una chiave. Dove la troviamo? Questa chiave, però. Madonna, com'è scomodo fare correre sta tizia. Oh mio Dio. Mannaggia voi. Gioco del cavolo. Ma ce la fai a correre in una maniera... Che non mi uccida? Oh ragazzi, abbiamo appurato che qui... Chiavi non ce n'è. Oh, di qua. Non siamo andati. Oh, corre anche con la levetta qua. Con il grilletto che è... Molto più fattibile. Di qua sopra non c'è un tuo, mi state dicendo. Cioè... Vuol dire che... Sono davvero fino qua... Cioè, siamo venuti fin qua per nulla. Bene. Interessante. Rassicurante. Niente, a questo punto... Torniamo indietro. Oh. Quando fa così non è mai un buon segno. Direi che c'è qualche spettro malefico. Qua c'è qualcosa. No. Oh, i. Devi stare calmo. Ok, allora torniamo nell'altra... Allora, qua c'è il coso che urla ogni volta che passo. No. Maledetti, io pensavo fosse automatico. Adesso mi spaventerò perché... Urla delle volte sì, delle volte no. Perché? Perché? Sempre dietro? Ragazzi, io non ce la faccio. Io ve lo dico. Cioè, io non ce la posso fare. Non so che cazzo di script hanno inventato, ma sto cavolo di coso è sempre nella posizione che mi fa spaventare di più. Di qua è aperto. Io non ce la faccio, ragazzi. Mi sta scoppiando il cuore. Oh. Oh no, ti prego. Ti prego, non ancora. Lasciami un attimo di respiro. Qui c'è qualcosa. Hai trovato un bengala, ma va benissimo, ma... Io ho bisogno di altre cose, di certezze, tipo, nella vita. Non capisco se sto tornando indietro, ma... È un po' confusionaria. Ehi. No. Stai tranquillo, per piacere. Non farmi... Spaventare. Vedi, qui sono già passato. Magari... Magari c'è qualcosa... Qualcosa che mi è sfuggito. Oh, qua c'è qualcosa. Cos'è? Una forbice. Ma il mio fazzoletto. Lo userei per piangere. Devi stare zitto, perché... Vabbè, ormai i my cassetti non mi spaventano più. Sono diventato immune. Quindi proviamo a tornare nel punto di prima con queste in mano. Fanculo. Io, ragazzi, io corro. Me ne vado, scappo, scompaio da qua. No, dalla parte giusta. No, please, dalla parte giusta. Questo gioco è il demonio. Questo gioco è il male. Cioè, io pensavo che Outlast fosse l'unico gioco in grado di spaventarmi, ma questo è il demonio. No, 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 no. Corri, 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 corri. Corri, per piacere. Da che parte? Vai dritto, non mi interessa. No, 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 devi stare zitta e correre, tu. Mi sta facendo venire un colpo. Ok, era di qua, vero? Non era di qua. Non era di qua dove era. Oh, mio... Sì, dovevo passare dal corridoio, giusto? Ok. E non avete idea dello stress? Cioè, non... Proprio... Oh... Di qua. No, no, tu vai, vai... Qua, qua, qua. Dimmi che... Dimmi che l'apri. Sì. Cioè, sì, no. Nel senso che... Ok. Un'altra. Oh. Rimpinzati di barrette, please. Attivate neanche una. Ok. No, tu tu non mi devi parlare, capito? Di stare zitto, perché... Spavento io. Non mi interessa. Di questo, non mi interessa neanche questo. Volete uccidermi tutti. Quanta roba, oh. Peggio di Ammisia. Oh, mio Dio. Qui è stanzia. Tieni la filosofia per... Quando non stai rischiando la vita. Accoglierle pure nel camino. Chi è stato il Papa? Va bene, interessante. Oh, qua c'è qualcosa. Sì, va benissimo. Devi stare attento. E non chiudere le porte. E non chiudere le porte. Chi servono per scappare? The Walking Dead insegna che devi tenere le porte aperte. Cioè, vabbè, i messaggi pure nel cesso. La medicina e robe del genere. Quante ragazzi. Ah, abbiamo già finito le strade possibili. Eh, non mi rassicura sta cosa. Ok, e qua siamo arrivati. Quindi, di qui non ci sono strade. Ok. Perciò, qua non ci sono bottoni che aprono cose. Ok. Perciò, dobbiamo cercare una via. Di qua. Cioè, di queste... Ah, qua c'è. Ovviamente non puoi spost... Non c'erano... Oh mio Dio. Io l'ho. Per niente. Oh, devi stare tranquillo. Oh, salvataggio. Quando... Quando meno... Meno mi servono. Un attivo di fuga di due prigionieri intercettato. Fermata con la forza dalle guardie. Il detenuto è in condizioni stabili. Alto è deceduto. Vabbè, ne farò una ragione. Grazie. Oh, con calma aprile le porte che mi viene un colpo. Non c'è niente. Basta. Oh. Attento. Non fatemi uscire... Non fatemi uscire roba da qua. Perché giuro... Che mi metta a urlare... Come... Mi metta a urlare come un'isterica. Oh, cazzo. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare io. Che... Oh. Oh. Appicciati un coso, va. C'era qualcosa qua. So che me ne pentirò. Me ne pentirò... Come non mai... Di... Essere venuto a scautare qua. Basta. Ho scautato a sufficienza. Vediamoci da qua per piacere. Di smetterla di mettermi ansia. Oh, cazzo. Potessi tenere... Perennemente acceso sto coso. Sare la persona... Più... Più... Più happy gamer del mondo. E qua non c'è ancora il campo gravitazionale. Li devo assolutamente prima... Trovare diciamo qualcosa. Cioè trovare qualcosa da attivare qui. Per forza. Per forza. Per forza. Sennò non... Si girarti anche un po' più velocemente. Un 360 su te stessa non riesci a fare. Usa un 180. Un 360 torni esattamente... Qua. Va bene. Qualsiasi cosa sia. Prendilo e vattene. Dimmi che l'hai attivo adesso. Dimmi che non c'era altro da fare. Sta ceppa. Probabilmente ce n'era uno anche indietro. Più sicuro. Cioè indietro nel senso... Qua nella prima zona. Allora eh. Con calma. Tranquillità. E senza brutte sorprese. Soprattutto senza brutte sorprese. Che io mi rilasso un attimo. Dopo un po'. Non è che poi... Mi arrivano cose... Abominevoli addosso. Mi serve per vedere. Ne abbiamo esplorato di qua. Cioè non che me ne penta eh. Che cosa puoi fare? Ma ce la fai aprire sta porta. Ok. Con sta musica. Devi stare... Devi stare shallow con sta musica eh. C'era qualcosa a USA. Ah va. Capirai l'altra porta. Ma grazie. Ah. Oì. Hai troppi bengala. Cazzo sono ciò che ti salvano la vita. Perché sei chiusa la porta? Ok. Ok. Ce la posso fare. Ce la posso fare. No no no. Insomma questo non mi ha spaventato perché mi è apparso diciamo dritto davanti. Quindi. Per qualche motivo che non... Non so mi pentirò di questo. Oh no. Oh mio Dio basta. Il mio cuore comincia a non reggere. Comincia a sentire il petto pesante. Quanto manca. Quanto manca. Sei minuti. Sei minuti. Poi giuro anche se non c'è l'autosalvataggio. Giuro piuttosto... Piuttosto rifaccio poi... Ma questa però... Non è... Il mio... Non è il timer. È un'altra sveglia che rimaneva... Quanto... È un'altra sveglia... E un'altra sveglia. Oggi mi Прocki... ... fa un culo qualsiasi cosa tu scriva oh cazzo mi giro è lì è lì è lì è lì è lì vaffanculo vengala giuro che se io non ho l'oculus rift non finirò mai di ringraziare devi andare via che finchè ho il bengala sto tranquillo ragazzi io non ci giochi a sto gioco c'è ma chi se ne frega della chiave ho capito oh mio dio devo tornare oh cazzo è finito il bengala apri apri dov'è che devo tornare indietro andare a prendere quella fottuta chiave no 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 vai a fa un culo che cazzo No, no, non è di qua Piantala Piantala Per cavolo, corri Bibbia, prendi la bibbia Non ce la posso fare Oddio, non posso Corri, puttana Ragazzi, non ce la faccio No Ti prego Qua, qua, qua Qua, 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 qua Mi sono anche guardato dietro Basta Ti prego, autosalvataggio Ti prego Si, caricamento Si, 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 si Basta 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 Questo episodio è finito Ho deciso io Questo episodio è finito Grazie Mi avrete detto salute Oh, salvataggio A posto Basta Basta Basta, 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 basta Stop il timer Nero io Al diavolo 40 secondi Basta Basta Va bene così Adesso faccio un bel video di qualcosa di colorato Tipo C'è il Doflite I puffi Basta Va bene ragazzi Grazie per avermi seguito Iscrivetevi al canale Io stasera non la continuo davvero Cioè Ci vediamo al prossimo episodio Iscrivetevi e Tutto quello che volete Bella a tutti Epic Gamer Felice Briai Ciao a tutti